Buongiorno a tutti. Come il video di oggi proseguiamo nella lettura e nel commento dei documenti diplomatici italiani. Siamo arrivati al 26 luglio 1944 con una situazione particolarmente complessa. Abbiamo avuto modo di constatare che il governo Bonomi ha ormai un mese e mezzo dal suo insediamento, un suo insediamento anche a Roma molto complesso, da Salerno a Roma, ma anche l'avvicinamento con Badoglio, criticato, contestato, osteggiato, potrei dire, anzi sì, lo diciamo così, in maniera palese dagli angloamericani, soprattutto da Churchill, dal governo britannico, per una serie di motivi che abbiamo avuto modo di spiegare. essenzialmente il fatto che Badoglio fosse il garante degli armistizi al settembre del 1943, per il fatto della decisione dalla volontà britannica di posticipare alla fine della guerra la scelta istituzionale, monarchia repubblica, eccetera, oltre al fatto di un rapporto, anche un po' un gioco delle parti, un gioco degli specchi tra la possibilità che l'Italia possa partecipare alla guerra contro la Germania, sul campo, ma questa partecipazione potrebbe creare delle aspettative, degli stati di fatto, delle condizioni tali da pretendere qualcosa al tavolo della pace, cosa che per gli angloamericani è inconcepibile, ma anche per i sovietici, anche perché appunto abbiamo avuto modo di constatare anche dalla lettura del carteggio Churchill-Stalin, anche l'Unione Sovietica apparentemente poco interessata al bilancio, alla situazione interna dell'Italia, visto che comunque ha il suo cavallo di Troia in Togliatti, ma c'è tutto un discorso molto ampio nella sua evoluzione, ma questo ovviamente ha una sua specificità che andremo a capire ancora giorno dopo giorno. Fatto questo cappello, possiamo andare a leggere il promemoria segreto del 26 luglio 1944, il segretario generale agli esteri Prunas, al presidente del Consiglio e al ministro degli esteri ad Interim Bonomi. L'ammiraglio Stone ha chiesto di vedere il presidente stasera alle 5. Intende chiedergli quali reazioni politiche susciterebbe un eventuale consiglio che egli facesse pervenire al reggio governo per prospettare l'opportunità dell'abolizione del Comando Supremo e della conseguente distribuzione delle sue funzioni ai ministeri militari. Udite, udite, pensate, messe a questa notizia. In linea assolutamente personale e segreta, Stone mi spiega che la proposta proviene dal generale Wilson ed è comunque di fonte ed iniziativa britannica. Egli intenderebbe opporvisi per una serie di ragioni fra le quali, soprattutto, quella che tale abolizione, richiesta dagli alleati oggi, potrebbe parere all'opinione italiana come diretta a decapitare le forze armate italiane e a diminuire l'autorità e il prestigio. E così. Ciò che a suo avviso non sarebbe estraneo ai propositi inglesi. Egli ritiene altresì che gli inglesi, così facendo, non si accorgono che, in sostanza, un provvedimento del genere, indebolendo l'esercito, andrebbe a vantaggio soprattutto dei comunisti. Prima di dare il suo parere contrario, e un suo memorandum in proposito è già pronto, Stone vorrebbe tuttavia assicurarsi che il presidente e i partiti non fossero per avventura e si stessi, per ragioni che ignora, disposti a favorire quella abolizione. In questo caso, egli non vedrebbe, infatti, come opporsi validamente alla richiesta britannica. Chiede che io possa dargli qualche preventiva personale indicazione a riguardo prima del suo colloquio col presidente. C'è una nota, una nota del 9 agosto, numero 14600, del maresciallo Messe, ecco, ecco, il convivato di Pella, riferisce, virgolette, presi gli ordini da sua eccellenza, il presidente del Consiglio dei Ministri è in accordo con la commissione alleata di controllo, dal giorno 10 agosto corrente anno il Comando Supremo assume la denominazione di Stato Maggiore Generale. Quindi, sostanzialmente, ritorniamo alla realtà ante maggio 41, prima che tornasse Cavallero al Comando Supremo, quello che, diciamo, che tra il giugno del 40 e il maggio del 41 era, sì, Comando Supremo, ma aveva una sua funzione molto relativa. Invece, quando torna Cavallero, come abbiamo detto, Cavallero imprime il suo potere, scardina quella costruzione che egli aveva creato nel 25 per ingabbiare Badoglio, ma adesso è lui ingabbiato e quindi rompe questa camicia di forza e pretende anche, effettivamente, anche concretamente, la superiorità rispetto ai tre cavi di Stato Maggiore, esercito, marina e aeronautica. Qui vediamo che la posizione di messe viene in parte ridimensionata. Vabbè, detto questo, Roma 27 luglio 44, trasmesso tramite la rappresentanza dell'URSS a Roma. È una comunicazione che parte per Corriere, il presidente del Consiglio e il ministro degli affari esteri ad Inter in Bonomi al rappresentante a Mosca, Quaroni. A mano a mano che eserciti sovietici procedono nella loro avanzata, è probabile troveranno sempre più numerosi, commisti con le popolazioni, internati militari e operai italiani. Gli ufficiali risultano internati in Polonia, i soldati impiegati nelle officine e nei campi un po' dappertutto. La prego di attirare la generosa attenzione delle autorità sovietiche sulla gravità della situazione in cui i codesti italiani, costretti dal nazismo al lavoro forzato o al più duro internamento, verranno indubbiamente a trovarsi sia nel corso della ritirata tedesca sia nel caso di collasso germanico. Ella vorrà dire che ogni provvidenza che fosse adottata al governo sovietico e il loro soccorso, a mano a mano che le circostanze lo consentiranno, sarà da noi vivissimamente apprezzata e costituirà per il popolo italiano una ulteriore prova di amicizia e di umanità che non possa essere dimenticata. Ella vorrà altresì preoccuparsi di esaminare con le autorità sovietiche quelle misure che parranno più opportune per facilitarne il compito e porsi a loro disposizione per tutto quanto esse potessero domandarle in proposito. Questione interessa estremamente tutto il popolo italiano ed io le sarò grato se vorrà dedicare ad essa ogni sua possibile cura. Passiamo sempre al 29 luglio. Il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Estrati di Interi Bonomi al Presidente del Consiglio d'Amministrazione del BIT, Goodrich. Allora, ho l'onore di accusare ricevuta della sua lettera del 13 giugno 1944, nella quale lei mi ha gentilmente informato che il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, Bureau Internazionale du Travail, visto che è scritto in francese, è stato investito nella sua 92esima sessione, il 27 aprile 1944, della domanda di riammissione dell'Italia nell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che le è stata indirizzata a nome del Governo italiano con lettera del 24 marzo del Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Badoglio. Ho l'onore di ringraziarla al tempo stesso per le disposizioni prese affinché il testo del verbale, dei dibattiti e le decisioni della 26esima sessione della conferenza mi siano comunicate e le pubblicazioni dell'Ufficio Internazionale del Lavoro mi siano inviate regolarmente in futuro. Quindi si cerca di trovare una via di uscita anche a questa faccenda. Sempre il 29 luglio il sottosegretario degli Esteri Visconti Venosta invia un telespresso al rappresentante a Mosca, Quaroni. Vediamo cosa viene detto. Le accludo un promemoria dove ella troverà tutti gli elementi e i dati necessari a dimostrare in modo certo, punto primo, che la partecipazione militare italiana alla guerra contro i tedeschi può essere molto più vasta di quel che attualmente non sia, punto secondo, i nostri sforzi costanti e pazienti per ottenere che tale aumentata partecipazione ci sia consentita, punto terzo, gli ostacoli che ci sono stati frapposti da parte anglo-americana per raggiungere tale obiettivo. Quindi, ella vorrà porre in chiaro quanto precede presso questo governo, vorrà aggiungere che ogni concorso e appoggio che il governo sovietico potrà decidere per consentirci di aumentare il nostro sforzo bellico contro la Germania, sarà da noi e dal popolo italiano considerato come un atto di amicizia. Ripeto quanto le scrissi in un precedente telegramma, gli uomini ci sono e si battono, ci occorrono le armi e la vorrà dunque svolgere un'azione di definitivo chiarimento in proposito. ci sarà una risposta che leggeremo a tempo debito. Come vediamo c'è un ampio spettro di relazioni, di tentativi più o meno militari nella speranza che si possa un po' così erodere quella cappa di scetticismo, di prevenzione, anche di antipatia. Ecco, diciamo un po' di antipatia soprattutto da parte degli inglesi. Bene, passiamo all'ultimo documento, sempre del 28 luglio, è un allegato, il capo di Stato Maggiore Generale Messe al segretario generale agli esteri Prunas. Vediamo, un promemoria. Il documento è intitolato Promemoria sulla partecipazione italiana alle operazioni contro i tedeschi. Vediamo un po'. Messe che ha combattuto anche contro i russi. Punto primo, l'atto dell'armistizio, oltre all'immediata entrata in azione contro i tedeschi delle nostre divisioni dislocate in Corsica e in Sardegna, nonché di rilevanti alicote di nostre truppe in Montenegro ed attigui territori yugoslavi, ove la divisione Garibaldi e numerosi elementi minori combattono tuttora gli ordini del maicello Tito, in Albania, in Grecia e in Egeo, truppe e popolazioni dell'Italia settentrionale e centrale opposero la prima resistenza i tedeschi e le divisioni italiane, dislocate in Puglia, si affiancarono senza esitazione alle truppe alleate per cacciare il nemico. Il loro aiuto permise, oltre alla rapida eliminazione dei tedeschi dalla Sardegna e dalla Corsica, il salvataggio e l'immediata disponibilità di impianti portuali importanti come quel di Taranto, Brindisi e Bari, e il favorevole rapido sviluppo delle operazioni verso nord. Ciononostante, il 22 settembre 1943, il generale McFarlane, capo della missione alleata, comunicava verbalmente che, per ordine superiore, le truppe italiane non dovevano più partecipare alle operazioni dirette contro i tedeschi accanto alle truppe alleate. Punto secondo, il maresciallo Badoglio protestava immediatamente presso il comando in capo alleato il 29 settembre al convegno di Malta, rinnovata la protesta ed offriva di utilizzare le forze armate italiane disponibili e le risorse del paese per combattere a fianco degli alleati. Benché il generale Eisenhower sembrasse apparentemente ben disposto, non furono accolte in definitiva né tali offerte né quelle ripetutamente fatte in seguito, tra cui una del 30 settembre, per l'impiego di sette divisioni subito e di tre divisioni a brevissima scadenza. Il 12 ottobre il maresciallo Badoglio, offrendo nuovamente la nostra larga partecipazione, specialmente di truppe idonee ad impieghi in regioni montagna, scrive al generale Eisenhower, virgolette, ora che l'Italia ha dichiarato guerra alla Germania, se si vuole che questo sia qualcosa di più di un mero gesto platonico, è necessario che voi prendiate in considerazione le mie richieste, così che noi siamo posti in grado di rendere la massima possibile collaborazione alle forze sotto il vostro comando. Il 17 ottobre la missione militare alleata informava il governo italiano che non era previsto l'impiego di forze italiane in combattimento oltre un raggruppamento motorizzato, ma anche l'entrata in linea di tale raggruppamento, circa 6.000 uomini, venne poi ritardata fino all'inizio di dicembre. Il 19 ottobre la parte italiana insisteva ancora offrendo di impiegare subito almeno tre divisioni della Sardegna e segnalando le maggiori possibilità della aeronautica nel campo operativo. Punto terzo. Da allora sono state fatte continue richieste per l'aumento della nostra partecipazione operativa, così il 29 novembre il nuovo capo di Stato Maggiore generale, Marecciallo Messe, segnalava alla missione militare alleata la possibilità dell'esercio italiano per una maggiore partecipazione alla lotta contro i tedeschi. Il 20 dicembre, in una riunione a Santo Spirito, il generale Eisenhower prometteva al Marecciallo Badoglio e al Marecciallo Messe di accettare tale maggiore partecipazione. Nessuna pratica attuazione si ebbe però in seguito a tali accordi. Il contingente italiano destinato ad operare veniva fissato in una divisione da combattimento, 14.000 uomini, e solo in questi ultimi tempi le autorità militari alleate hanno ammesso di fatto un aumento di tale cifra fino a 25.000 uomini, di cui 3.000 destinati ad elementi volontari dopo la liberazione di Roma e dell'Italia centrale. La provenienza di questi volontari molto probabilmente è in parte dei partigiani. Punto 4. L'esercio italiano non solo non ha ricevuto aiuto in armi e materiali per la preparazione delle unità combattenti, ma in molti casi persino le armi italiane raccolte con grandi difficoltà per armare le nostre unità furono sottratte per ordine delle autorità militari alleate o addirittura vennero disarmate dalle grandi unità, come si verificò ad esempio per le divisioni italiane che avevano combattuto in Corsica per la liberazione dell'isola. Particularmente importante è qui la sottrazione dei mezzi, camion eccetera. Interessante questa cosa. Non lo ricordo a Messe, ma lo ricordo io. Inoltre gli alleati hanno bloccato materie prime e requisiti gli stabilimenti industriali, rendendo sempre più difficile la preparazione di unità e di rifornimenti. Punto 5. Attualmente per disposizione della commissione alleata di controllo l'esercio italiano deve fornire, oltre al Corpo Italiano di Liberazione, armato ed equipaggiato esclusivamente con materiale italiano, 25.000 uomini, 100.000 uomini per il servizio di sicurezza interna, dei quali è allo studio la riduzione a 50.000 uomini, 30.000 uomini per i corpi territoriali, i servizi, gli enti centrali e ben 180.000 uomini per l'impiego da parte degli alleati come unità ausiliari. Le unità ausiliari mi sono occupato di questo tema, ci ho scritto anche un saggio circa ormai, forse dieci anni fa, sì, se non sono dieci sono otto. Erano sostanzialmente divisioni, le vecchie divisioni e brigate costiere, formate da elementi o troppo giovani o troppo vecchi, destinate in questa circostanza attività di bassa manovalanza, carico, scarico di merci, sistemazione, aggiustamenti vari, riparazioni di strade, attività di logistiche, di non meglio situazione, gestione di muli, eccetera, eccetera, quindi cose che magari avevano anche attinenza con il fronte, ci furono casi, soprattutto sulla zona della collina Gustav tra la fine del 43 e l'inizio del 44, ma sarà anche successivamente in cui appunto si trovarono dei rifornimenti sommeggiati che si trovarono addirittura in prima linea, con casi anche piuttosto difficili da gestire. Quindi in servizi sia in una zona di operazione che nelle rovie, totale 139.000 uomini. Questi ultimi potrebbero molto utilmente essere sostituiti da operai civili, infatti molti si occupavano anche di porti, attività molto anche degradanti moralmente, c'erano anche casi appunto di ruberie varie proprio perché non si sentivano neanche più soldati, erano operai e quindi c'era anche un'attitudine alla poca moralità e alla poca marzialità. quindi, e se dove eravamo arrivati? O qui da sostituiti da operai civili, alleviando la disoccupazione in modo da consentire l'impiego razionale di militare in compiti essenzialmente di combattimento o almeno in zona di operazione. In vari casi i reparti già approntati per combattere sono stati disarmati e destinati a servizi vari con grave danno per il morale delle truppe e della popolazione. Lo stesso entusiasmo delle bande di patrioti viene depresso dal trattamento che essi ricevono dagli alleati dopo la liberazione nella zona in cui operavano. Quindi anche messe per ora anche la causa dei partigiani. Punto 6. Nei giorni scorsi il comando armato e alleate in Italia ha espresso, sarebbe Alexander, ha espresso l'intenzione subordinata all'approvazione dei governi alleati di autorizzare l'approntamento di altri due gruppi di combattimento italiani, ciascuno di 9.500 uomini, con armamento e di equipaggiamento alleato. Se tale progetto avrà attuazione, il nostro concorso diretto alle operazioni terrestri salirà a circa 45.000 uomini. Quanto sopra, unito al pieno riconoscimento fatto contemporaneamente dal generale Alexander dell'alto spirito combattivo dimostrato dai nostri soldati del Corpo di Liberazione, costituisce un primo uso indietro risultato. Punto 7. Occorre però considerare che noi vorremmo e potremmo fare molto di più, specie ora che il governo nazionale, costituito su larga base democratica, è garanzia per il popolo e che a sua volta la garanzia migliore per la salda affermazione in Italia di un regime democratico deciso a mantenere in avvenire la sua via accanto a quella delle Nazioni Unite, è costituita dal rafforzamento delle nuove forze armate. Vi è la possibilità di elevare notevolmente il numero delle unità italiane combattenti, praticamente almeno sei altre divisioni potrebbero essere impiegate nell'immediato futuro, oltre al citato Corpo Italiano di Liberazione e ai due gruppi di combattimento allo studio. Naturalmente, fornendo come per questi ultimi necessario armamento e ripropiaggiamento, occorrerebbe però o richiamare altro personale alle armi, in tal caso dovrebbe essere autorizzato un aumento delle razioni vivere rigidamente contingentate dalla parte alleata, o orientativamente richiamo di 100.000 uomini, o diminuire l'attuale prestazione a favore degli alleati in unità ausiliarie, in misura corrispondente. Punto 8. In questo secondo caso, come già detto, si potrebbe ricorrere alla mano d'opera civile per molti dei lavori disimpegnati da dette unità ausiliari. Da osservare che comunque il citato numero di divisioni può essere successivamente ancora aumentato. Punto 7. I motivi per i quali l'aumento della nostra partecipazione operativa è stato così ostacolato fino ad ora dovrebbero ritenersi decisamente superati. Così, alla probabile sfiducia iniziale della nostra capacità e volontà combattiva, è ormai subentrata la sicurezza del rendimento operativo delle unità italiane. Ne sono prova i riconoscimenti frequenti e senza restrizioni che tutti i comandi alleati hanno tributato alle nostre truppe. Così, la difficoltà più volte accennata da parte alleata di non disporre di armamento e di equipaggiamento non sembra più ragione valida quando si considerano le evidenti ampie disponibilità a riguardo degli anglo-americani e la larghezza con cui è stato provveduto alle unità francesi, polacche, eccetera. Punto 10. E anche in un altro campo vi sono larghe possibilità di potenziare il nostro sforzo bellico. Fin da primi dell'ottobre 1943 si è offerto alla missione militare alleata di utilizzare i numerosi nostri prigioni di guerra per la formazione di unità combattenti. Come abbiamo visto, si era proposto pure ai russi, pensate un po'. Il 29 novembre, nel programma del maresciallo Messe, nuovo capo di Stato Maggiore Generale, è stata nuovamente prospettata alla parte alleata la possibilità di formare tali grandi unità di prigionieri in relazione anche alle pressanti richieste che da ogni parte pervenivano e pervengono da tali elementi, di essere chiamati di abbattersi contro l'odiato nemico. Da allora, malgrado nuove esistenze, la questione non ha fatto progressi, la concessione di aliquote, almeno di prigionieri, sarebbe utilissima per la formazione e l'alimentazione di quadri delle nuove grandi unità. Punto 11. In conclusione, l'Italia vuole e può dare molto di più alla causa delle Nazioni Unite? L'opinione pubblica italiana chiede ogni giorno e più insistentemente questo aumento di partecipazione che, insieme nel rinnovato ordine democratico, dovere e diritto. Dovere per la vittoria della causa di giustizia e di libertà delle Nazioni Unite, diritto perché il nostro Paese potrà risorgere solo e quando, e per quanto i suoi figli migliori avranno dato e realizzato nella loro lotta contro l'oppressore tedesco. E scusate, se è poco, che vi devo dire? Beh, diciamo che in questo promemoria Messi esprime tutta la sua forza, la sua forza anche morale, di colui che, ricordiamolo, uno che ha iniziato nel 1900 come soldato semplice, ha fatto tutti i gradi dei sotto ufficiali, ha fatto tutti i gradi degli ufficiali, fino ad arrivare al grado di maresciallo d'Italia, partecipando a tutte le operazioni, a tutti i fronti bellici dal 1900, stato in Cina, 1901, stato in Cina contro i Boxer, fino alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1945 ha fatto due o tre volte l'Albania, Libia, in Africa Orientale, la Prima Guerra Mondiale, Seconda Guerra Mondiale, veramente di tutto e di più strane la Spagna. Ha fatto tutte le campagne nella Seconda Guerra Mondiale, è stato sul fronte francese, poi in greco-albanese, in Russia e in Tunisia. Era stato in Africa orientale nel 1935-1936, però ha fatto tutti i fronti, tutte le guerre, tranne la Spagna. Detto questo, mi sembra che abbiamo anche oggi dato molta carne sul fuoco, molta legna in cascina per poter avere un'ulteriore pezza d'appoggio per un'analisi sempre più robusta, sempre più completa di come vanno le cose anche a livello diplomatico, perché come sappiamo la diplomazia e l'elemento militare vanno a braccetto, sono quei due aspetti della grande macchia dello Stato che sono le due facce della stessa medaglia, quindi l'elemento della diplomazia ci dà uno spaccato, ci dà un'apertura maggiore per capire anche le questioni di ordini militari e di ordini bellico, anche perché si deve prima decidere con chi fare la guerra e poi si fa la guerra, perché se non hai deciso con chi fare la guerra c'è un problema molto molto grave che abbiamo scontato nel periodo 14-15, tanto per gradire, ma anche nel 39-40, non è che siamo così a fare le trombette. Detto questo, come al solito, vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale, chi non lo fosse già, che non l'avesse già fatto, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao a tutti!